Speciale Pasqua, un percorso tra luce e mistero. Sette titoli che aprono il mistero alla fiducia e all'incontro. Per percorrere l'ultimo tratto della Quaresima, per entrare nello spirito della Settimana Santa e accostarci alla croce, al sepolcro. Troviamo i colori della passione, sette chilometri da Gerusalemme, ma anche i documentari sul Sacro Telo, sulla Sindone, o il bellissimo e attuale Un luogo e una carenza. È questa la bella proposta che ci fa la piattaforma VatiVision.